Una buona serata, ben trovati all'appuntamento con le previsioni meteo in collaborazione con la protezione civile della regione Campania. Sull'Italia prevale l'alta pressione con fenomeni di instabilità, in particolare sui rilievi alpini ed appenninici. Nella seconda parte della giornata di domani la pressione tenderà comunque a cedere al nord con locali fenomeni che si accentueranno nella giornata di giovedì, in particolare sulle zone orientali della nostra penisola. Nello specifico adesso invece andiamo a dare uno sguardo alla Campania, previsioni per domani, mercoledì 25 aprile. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso al dissolvimento delle foschie notturne con locali annuvolamenti pomeridiani, in particolare sulle zone appenniniche, ma con scarse probabilità di precipitazioni. I venti ispireranno deboli variabili a prevalente regime di brezza lungo e litorale, il mare si presenterà poco mosso o localmente mosso durante il pomeriggio. Infine uno sguardo alle temperature che si presenteranno nella giornata di domani in aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. È tutto, grazie per la cortese attenzione.